Benvenuti e bentornati su BC, io sono Andrea e questo è il mio canale Oggi spacchettamento, oggi all skin care di questo marchio qui, Sconce Cosmetic Che è un marchio che io ho già utilizzato, ho voluto ricomprare perché c'era una promo Ed è un marchio che io intervallo a creme un pochino più importanti, più attive, più forti anche come le formulazioni Perché? Perché ho scoperto questo marchio un po' di tempo fa ed è un marchio che costa veramente poco Nel senso che le creme le comprate a 10-15 massimo 20 euro Ma le formulazioni, qui mi hanno mandato anche tutte le varie info a cartellino Le formulazioni, uno sono veramente ottime, sono delicate anche per le peli sensibili come la mia con dermatite atopica E fanno diversi tipi di prodotti Fanno i sieri, fanno le creme, fanno i contornocchi Sieri specifici come per esempio questo alla vitamina B3 Fanno i contornocchi, questo è nuovissimo, l'ho voluto comprare, ho fatto un ordine soprattutto per questo Perché è nuovissimo, lo volevo appunto provare Fanno tonici e spoglianti E soprattutto hanno una filosofia molto molto naturale Molto green, cruelty free, zero siliconi, paragon bene e petrolati E il pack, la cosa bellissima è che è super riciclabile Perché se non sbaglio è fatto di... vediamo se riesco a leggerlo ragazzi Il pack è fatto... Niente, non mi ricordo, comunque credo... non è plastica, è un polimero, come si può definire È naturale, quindi ricreato naturalmente L'avevo letto da qualche parte adesso... Ah, Bioplastic Sugar Cane Tube Eccolo qua, c'è scritto, infatti mi ricordavo Allora, questi sono i prodotti che ho preso Ho preso Anti-Aging Face Cream Forever Young Questa già ce l'avevo L'ho voluta riprendere per provarla Il primo ingrediente è il burro di carité... l'acqua ovviamente Il burro di carité I... 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 carità Il burro di carité I tgliceridi La glicerina Poi abbiamo... L'olio di prugna Poi abbiamo l'olio di mandorle poi abbiamo l'argania, poi abbiamo il cranberry, poi abbiamo l'acmella, insomma tutti gli oli, ovviamente i biologici, molto belli. Andiamo avanti, poi ho preso il make my day che è il vitaminico, dove all'interno c'è la B3, c'è ovviamente la vitamina C, c'è l'acido ialuronico, la vitamina C e l'acido ascorbico, c'è l'estratto di aloe, ci sono i mirtilli, insomma mi sembrava molto bella, la vitamina E mi sembrava molto figo. Poi, Eyes Don't Lie, Illuminating Eye Cream, ho voluto provare anche questa qui, che appunto è una crema per gli occhi, e in questo caso è sempre molto ricca, burro di karité, olio di oliva, jojoba, cranberry, anche questa, aloe, la candelia, l'acido ialuronico, ovviamente il rosmarino, molto figo. Poi, abbiamo Pump Up Eurego Anti-Vricon Plumping Serum, questo è un siero, appunto, anti, anti, ma io sto mettendo tutto al contrario, raga, oddio, ma me ne sono accorto, vabbè, amen, girate il telefono. È un siero, appunto, anti-età, sempre con gli stessi principi attivi. Poi, questa crema qui, che era quella nuova, che volevo provare, che credo sia un instant lift, cioè per le rughe, un istantaneo per le rube, per le rughe, però ovviamente sempre, come dire, molto naturale, orientato verso il naturale, e poi il Smooth Criminal, mi piace tantissimo il nome, che è un tonico esfoliante agli alfa idrossiacidi al 10%, ovviamente troviamo il gluconolattone alfa e beta, perdonatemi, perché il gluconolattone, infatti, non è un alfa idrossiacido, se non sbaglio. Abbiamo il gluconolattone, l'acido glicolico, sempre la B3, l'acido succinico, l'acido citrico, il tartarico, il gluconico, insomma, molto, molto figo per andare a tonificare, ma anche a lisciare. Quindi questa è la mia, poi bellissimo il packaging con, guardate, i prodotti che hanno la carta, non plastica e nient'altro, tutto riciclabile, questo è molto carino, molto, molto carino. Tra l'altro, adesso, alta qualità Made in Italy, 100% italiana, perché questo è un marchio svedese, se non sbaglio, nasce come marchio svedese. E, figo, per chi vuole qualcosa, ovviamente, di fatto bene, non troppo impegnativo, che non costi troppo, va benissimo. Io, ovviamente, continuerò ad usare i miei prodotti cosmeceutici, di medicina estetica, perché io tengo la skincare tantissimo e voglio dei risultati molto più evidenti, ma questi, per mantenere, per fare dei cambi, per, per, come dire, non spendere troppo, sono veramente, 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 veramente buoni e, qua lo dico e non lo nego, meglio, 100 volte meglio di The Ordinary, faccio anche il nome, che è un altro marchio che adesso è in super voga, che produce, però, altre cose, in realtà, nel senso che alcuni attivi ce l'ha solo, loro qui non li trovate su Scon, su The Ordinary, invece, sì, però, secondo me, è 150 volte meglio questa tipologia di skincare prodotta da Scon, piuttosto che quella di The Ordinary, proprio detto, papale, 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 papale. E niente, vi ringrazio di aver visto questo video, come sempre vi ricordo che i miracoli non esistono, ma la Costanza fa miracoli. Kisses!